eccoci buon pomeriggio se ci state guardando in diretta e buongiorno a tutti oggi puntata specialissima del nostro podcast a qualcuno piace nerd oggi non c'è samuele quindi faccio io le gli onori di casa mi sono anche creato un finto loft per fare bella figura con il nostro con la nostra ospite che salutiamo subito che è la nostra bruna martini autrice di roots ciao a tutti ciao a tutti piacere allora prima di tutto grazie per essere con noi per chi già ci segue sul nostro sito nerd games qualche settimana fa abbiamo recensito la sua seconda opera un graphic memoir che si chiama roots radici di cui è sparito perché effettivamente non devo fare i conti con la tecnologia eccolo eccolo però diciamo che questo effetto può anche aiutarci a capire quanto effettivamente trovare le nostre radici ogni tanto permette di perderci sicuramente lascio chiaramente la parola a bruna partendo da una domanda che le anticipate le faccio subito russa me ha entusiasmato particolarmente e ho proprio detto a bruna come quando ho preso in mano il suo libro ero in mezzo al parco ho letto qualche pagina ho detto no adesso no richiede un attimo più di di attenzione non perché è complesso nella sua lettura ma perché avevo capito che mi stavo introducendo in una storia che meritava un angolo tutto suo bruna può essere corretta questa mia interpretazione o sto esagerando no guarda ti ringrazio anche per il complimento e per il consiglio su come approcciarsi a un libro come roots perché effettivamente è un graphic memoir e come tale non presenta solo una storia con dei personaggi ma anche tutta una ricerca storica e storiografica che ci sta dietro come tale anche io preferirei sedermi a casa magari spogliare qualche pagina prima di andare a letto comunque in un contesto tranquillo e sotto controllo piuttosto che leggerlo di sfuggita magari sul telefono quando ci muoviamo da un posto all'altro quindi sì anche secondo me sarebbe il caso di dedicare un po di attenzione al libro per comunque la complessità magari anche dell'arco temporale del fatto che si sviluppa in più storie e quindi non è una sola narrazione unica tra l'altro nel corso della nostra chiacchierata bruno dopo ci mostrerà anche un po di backstage di e di pagine proprio del di roots per meglio capire di cosa stiamo parlando quanto è stato difficile parlare di te della tua famiglia adesso di rendere pubblica quella che alla fine è una storia vera la tua è una storia vera e sì è stato complesso trovare anzitutto le informazioni su questo mio antenato che è il protagonista del libro e di cui io non sapevo niente ho scoperto il suo nome un po per caso nelle pagine del testamento del mio tris nonno e da lì mi si è accesa questa curiosità di cercare di capire chi fosse e soprattutto perché il suo nome fosse stato completamente dimenticato all'interno di tutta la mia famiglia e quindi certo c'è stata anche un po di difficoltà nell'andare a parlare con i parenti capire che cosa sapessero ottenere anche il loro permesso e la loro benedizione a parlare di una storia che comunque li coinvolge ma alla fine erano tutti felici di aver potuto trovare qualche informazione su questo antenato così misterioso e soprattutto di essersi rimessi in contatto con il lato argentino della famiglia infatti in roots parlo appunto di questo mio antenato che emigrò dall'italia all'argentina però nessuno sapeva dove fosse andato e per quale ragione fosse migrato dopo aver effettuato diverse ricerche di cui parlo nel libro proprio l'anno scorso a queste date sono andata in argentina e ho trovato l'ultima figlia rimasta di gracco quindi una mia cugina un po distante però comunque sempre mia cucina sono rimasta a casa sua per un mese quindi poi ho potuto anche ricostruire in maniera più precisa la vita del mio antenato a me una parte del libro che mi ha molto colpito è quando ti poni la domanda appunto sul perché lui è partito facendo anche un parallelismo con quella che è la tua storia dove da un lato appunto in tutte e due tra l'altro leggo il nome per non sbagliarlo gracco cornelio rondalli si chiamava il tuo sì sì è un nome un po particolare però bellissimo bellissimo proprio la protagonista cioè abbinato alla nave che c'è in copertina un nome così veramente ha un qualcosa di anche cinematografico invece come sempre la realtà vince sempre arriva sempre prima e veramente a me ha colpito molto e non ti dico anche un po commosso quando tu dici ma perché è partito e fai tutto un parallelismo con quella che è stata la tua storia esatto tu hai scoperto di voler essere un'illustratrice spero che questo termine sia corretto per la professione e parli proprio di felicità sì ho cercato proprio di tratteggiare un parallelismo tra l'esperienza di gracco e quindi anche l'esperienza del migrante italiano tra la fine ottocento e il primo dopoguerra e la mia si tratta chiaramente di esperienze molto diverse ovviamente i migranti dell'epoca avevano davanti a sé molte più difficoltà di quanto potessero avere i giovani della mia generazione però in tutti e due casi c'è qualcosa in comune cioè la ricerca della felicità di una vita più soddisfacente magari una vita che non è stata definita come tale dai nostri genitori dai nostri parenti o dalla società in cui viviamo ma che per noi la vogliamo diversa vogliamo qualcosa di non poi così tanto scontato cioè non significa che sarà una vita migliore o più facile però è appunto una vita che ci riflette un pochino meglio e per questa ragione ho raccontato i miei lavori di ricerca e ricostruzione della vita dell'antenato partendo dalla mia condizione di expat come diciamo oggi non diciamo più migranti quindi di straniera in Inghilterra o anche in altri paesi dove ho vissuto brevemente cercare di capire come mi sento io al momento come outsider come persona che guarda tutto da fuori e come magari ha dovuto sentirsi anche il mio antenato quando lasciata l'Italia si è ritrovato in un paese assolutamente diverso con usi, costumi, lingue completamente diverse come appunto l'Argentina senza voler entrare troppo in un aspetto socio-politico della questione ormai la parola emigrazione fa un po' paura anche per questo ho voluto soffermarmi sul tema nel mio libro perché ho scoperto che quando si parla della grande emigrazione italiana sono tutti molto contenti di ascoltare, di così rivangare i ricordi e di magari approfondire il tema però non appena si tracciano dei parallelismi tra l'emigrazione italiana e l'immigrazione che oggi interessa il nostro paese come meta, come destinazione ecco allora che gli anni mi cambiano completamente tratteggiando questi parallelismi ho voluto cercare di far capire al lettore come gli italiani in Argentina all'inizio del Novecento erano trattati in maniera non troppo diversa da come trattiamo noi oggi i migranti che dalle coste dell'Africa o dall'Asia raggiungono il nostro paese quindi gli italiani all'epoca venivano considerati sporchi, ignoranti, poveri e persone che rubavano il lavoro con cittadini perché accettavano dei salari più bassi erano considerate persone che non volevano integrarsi, che volevano sempre rimanere nelle loro fattorie in campagna con il loro linguaggio, i loro piatti gastronomici, i loro vestiti e non cercavano invece di amalgamarsi al resto della popolazione vedendo appunto questi documenti, leggendo delle poesie, dei libri o degli spettacoli teatrali che prendevano in giro effettivamente gli italiani mi sono resa conto che la situazione non è tanto diversa rispetto ad oggi a come noi trattiamo quelli che invece arrivano nel nostro paese e quindi ho voluto un po' raccontare questo parallelismo nel libro è molto interessante perché alla fine mi permetterei di dire sotto sotto se dobbiamo trovare una cosa che ci unisce tutte è proprio questa ricerca di noi stessi in parte dalla famiglia e in parte da chi siamo noi poi sicuramente il tema della famiglia dopo lo riprendiamo sotto un altro aspetto se ora ti va possiamo anche già cominciare a condividere quelli che sono i tuoi contributi mentre appunto avviene questo passaggio io ricordo che il libro è edito da Becco Giallo anzi ringraziamo anche per aver avuto la copia e è la seconda graphic novel in questo caso avremo di un graphic memoir fatto da Bruna eccoci adesso eccoci qua allora sappiate che nelle prove ho sbattuto fuori Bruna invece adesso dovrebbe esserci perfetto vi mostro alcune immagini tratte dal fumetto così da capire un attimo la storia e lo stile che ho implementato in questo volume e la ricerca anche che ci sta dietro nel mio lavoro sono sempre interessata dalle storie ordinarie cioè quelle di persone comuni qualunque il cui spaccato di vita nonostante importante e denso di significato è però andato del tutto dimenticato e una di queste persone è il famoso Gracco Cornelio Rondalli di cui vi raccontavo poco fa quindi il mio avo che è il fratello primogenito quindi più grande della mia bisnonna e qua lo vediamo in una fotografia dall'inizio del novecento io non sapevo assolutamente nulla di questo antenato finché proprio per caso mi sono imbattuta nel nome Gracco Cornelio all'interno del testamento del mio trisnonno e così ho scoperto che il trisnonno non aveva solo quattro figli come mi avevano sempre detto in famiglia ma cinque e il primogenito aveva questo nome assolutamente incredibile Gracco Cornelio Rondalli pregno di gravitas romana e di autorità che insomma non avrebbe dovuto essere dimenticato così facilmente e allora ho effettuato diverse ricerche sono stata in uffici consolari anagrafici, archivi, musei e ho scoperto che Lavo aveva lasciato l'Italia e la sua famiglia senza dire niente a nessuno quindi in condizioni davvero misteriose e si era trasferito in Argentina a Cordoba nella parte settentrionale del paese dove aveva sposato una donna del luogo e aveva avuto ben nove figli creando quindi un vero e proprio ramo argentino della famiglia la sua non è una storia unica perché in più di 15 milioni sono stati gli italiani che hanno effettuato lo stesso viaggio alla ricerca di fortuna però questa storia appunto individuale e semplice diventa una storia collettiva quella di tutta un'Italia che a causa del conflitto mondiale della lotta di classe o del conflitto agrario ha dovuto lasciare il paese alla ricerca di maggiore fortuna altrove questo volume è un graphic memoir perché si basa su vicende veramente accadute e queste vicende mi sono state raccontate da Marta che è questa signora in piedi che è la figlia più giovane di Gracco e insieme a suo fratello che trovate davanti seduto sono gli unici sopravvissuti di questa famiglia di nove persone tra l'altro il fratello si chiama Italo-Americo quindi già nel nome sancisce un po' il connubio tra l'Italia e l'Argentina ed è stata Marta a darmi tutti questi documenti che troverete all'interno della graphic novel carte d'identità l'albero genealogico oggetti che poi ho anche filmato e inserito in una serie di video che potete trovare sul mio sito che raccontano un po' la storia della ricerca che ci sta dietro si tratta di tantissime immagini cartoline, fotografie, biglietti da visita che insomma ho inserito in questo pdf come carrellata per farmi vedere un attimo qual è il lavoro di ricerca che ci sta dietro e che ho effettuato sia appunto per testimonianza diretta che anche andando proprio a visitare molti musei in Italia e in Argentina ed è così che ho potuto un po' ricostruire quella che era la vita del migrante il tipo di imbarcazione che prendevano per andare in Sud America le condizioni del viaggio le ragioni che ci stavano dietro le colonie che costituirono poi in Argentina una volta arrivati e i documenti di cui si dovevano dotare per poter effettivamente integrarsi in territorio argentino e iniziare lì una vita diversa da quella di partenza ed ecco quindi alcuni di questi documenti che permettono un po' di rappresentare la storia che ho utilizzato all'interno delle illustrazioni e delle tavole eccezionale, eccezionale ecco diciamo come sempre mi viene proprio da dire al di là che appunto la tua scelta di essere un'illustratrice un racconto del genere l'immagine è fondamentale possiamo dirlo senza cioè in questo caso veramente parole e immagini vanno proprio di pari passo grazie che tu sia d'accordo con questa mia definizione una domanda che volevo farti era proprio legata quando hai incontrato Marta e il fratello qual è stata la loro reazione sul pensiero che potesse nascere un libro sul padre perché tu eri un desiderio ma chissà loro quando si sono trovati davanti questa richiesta mi hanno detto di aver passato tanti anni a cercare informazioni sulla vita italiana del padre e di non esserci mai riusciti per cui quando mi sono presentata a Cordoba e sono stata accolta nella loro casa ho mostrato tutto quello che avevo trovato fino a quel momento che consisteva prettamente in quei documenti fotografie libri che erano rimasti nelle soffitte di alcuni miei parenti in Italia e loro non li avevano mai visti quindi sono rimasti stupefatti al vedere le fotografie del resto della famiglia oppure a rendersi conto che il loro avo o il loro padre era comunque piuttosto abbiente a Calolzio mentre non lo era affatto in Argentina aveva goduto di un'educazione cosa che era piuttosto rara comunque ai primi del Novecento in Italia di solito solo i nobili o i grandi proprietari terrieri potevano andare potevano permettersi di mandare i figli a scuola quindi Marta ed Italo sono rimasti davvero sbalorditi da questo passato del loro padre mi hanno fatto molte domande abbiamo anche cercato insieme di sciogliere alcuni enigmi che racconto nel libro in particolare il perché il loro padre avesse deciso di lasciare comunque una famiglia piuttosto abbiente e anche piuttosto unita per andarsene dall'altra parte del mondo e quello che mi ha detto Marta è che finalmente era riuscita grazie a questa mia ricerca a rimettere insieme a riordinare le carte della memoria e siccome Marta ha ben 75 anni e comunque si avvicina un po' alla fine della sua vita che speriamo sia ancora lunga però chiaramente a 75 anni ha detto di aver avuto una gran gioia a poter chiudere questa scatola prima che appunto finisse la sua esistenza io mi ero segnato una frase che appunto dici nel libro quando parli di di Gracco Cornelio parli proprio dell'abbandono di un presente agiato per un avvenire incerto ed è una ecco è un aspetto che sicuramente nei migranti emerge molto però forse questo aspetto del futuro incerto è una realtà che forse anche noi stiamo ricominciando adesso a ripercepire parlando di macroeventi che ci stanno un po' coinvolgendo dalla pandemia e poi i guerre diciamo che forse un altro legame che a me mi sono sentito di fare era proprio legato a questo aspetto rispetto alla tua storia quella di Gracco che il momento storico comunque è abbastanza incerto e uno forse ha voglia di creare una nuova via sì sono d'accordo infatti anche il periodo storico in cui Gracco era nato e cresciuto era molto incerto l'Italia era appena stata unita unificata da Garibaldi c'era il conflitto agrario lotte di classe scioperi poi ci fu il primo conflitto mondiale poi anche la seconda guerra quindi un periodo sicuramente non facile che deve aver spronato molte persone a cambiare vita a trovare magari una strada che fosse più efficace per loro rispetto a quella delimitata dalle generazioni precedenti e anche per me quando ho cominciato a fare tutte queste ricerche per la realizzazione del libro ha colpito l'idea che le azioni collettive e i fenomeni sociali culturali storici universali portano poi anche l'individuo a modificare il proprio corso d'azioni quindi le azioni collettive influenzano le azioni individuali ed è proprio per questo che è importante andare alla ricerca delle nostre radici è importante cercare di capire come dei fenomeni all'apparenza distaccati dalla nostra vita di tutti i giorni possono invece avere un effetto sulle decisioni che prendiamo dove vivere cosa fare quale lavoro fare quale tipo di famiglia creare e certamente adesso appunto con la pandemia poi la guerra tra Russia e Ucraina poi ancora continui rivolgimenti a livello internazionale portano comunque il singolo a domandarsi perché devo continuare a fare quello che tutti gli altri hanno fatto prima di me perché magari non andare da un'altra parte e cercare fortuna lì dato che alla fine siamo tutti un po' instabili e un po' precari da qualunque parte si vada mi trovi pienamente d'accordo l'altra citazione invece che mi ha molto colpito e che leggo sempre è quella più legata alla memoria ecco il guaio con la memoria se non la ripeti è come se non fosse esistita mai che ovviamente diciamo è il motore di tutto questo tuo progetto è una domanda un po' marzulliana che mi permetto di fare prima di passare a un altro aspetto della famiglia a volte non rischiamo di essere poco attenti alla memoria ma un po' troppo legati alla nostalgia cioè la nostalgia spesso richiama anche cose non vissute sì sì sicuramente spesso ho questa sensazione di nostalgia per eventi che in realtà non ho mai vissuto ma magari ho recepito attraverso film serie televisive canzoni e sembrano parte della mia esperienza ma non lo sono sì sono d'accordo spesso si pone sullo stesso piano la memoria con la malinconia e il dispiacere che alcuni eventi non ci siano più in realtà la memoria non è solo questo la memoria deve essere critica e deve essere anche una lezione nel mio libro precedente a Ruth che è patria crescere in tempo di guerra la memoria che racconto è quella di mia zia che era una bambina durante il periodo fascista ma non uso quella memoria per rivangare momenti felici della esistenza di mia zia al contrario utilizzo quegli aneddoti di guerra e del fascismo come una sorta di monito alle generazioni di oggi a non compiere degli errori che sono stati effettuati in passato allo stesso modo in Ruth Radici racconto dell'immigrazione ma l'immigrazione non era il viaggio di piacere era l'ansia di non sapere dove andare a finire che lavoro fare come si sarebbe arrivati alla fine della giornata senza soldi ma anche il dispiacere di abbandonare i genitori fratelli sorelle la famiglia a casa quindi l'immigrazione diventa un po' un monito a magari incoraggiare gli italiani di oggi a non credere che tutti gli immigrati che arrivano in Italia lo facciano perché vogliono tentare fortuna e vivere meglio di come vivevano prima ma senza lasciarsi dietro niente al contrario i sacrifici che questi effettuano sono numerosissimi così come erano numerosissimi i nostri e quindi in quel senso che voglio riportare alla luce la memoria e il ricordo proprio come una sorta di lezione e di monito un aspetto che appunto ho colto leggendo sia patria che russa è proprio il fatto che io l'ho preso come insegnamento per me stesso è che veramente più ci si conosce e si conosce un po' quella che è la propria strada più veramente anche quel concetto tanto utilizzato di empatia diventa veramente più quotidiano perché si capisce comunque come il desiderio quella pancia che la nostra pancia sia veramente spesso simile in quella che è la ricerca gli atteggiamenti di ostilità li puoi sviluppare solo verso persone che non conosci perché se queste persone le conosci le apprezzi sai i sacrifici che ci sono dietro capisci che in realtà sono persone come te è difficile comunque essere ostili dogmatici ed inflessibili quando invece si capisce che tutti quanti in realtà siamo sulla stessa barca letteralmente allora direi che l'atteggiamento può cambiare perfetto ti ringrazio per questa prima parte su Roots volevo un attimo allargarmi su quelli che sono gli altri tuoi progetti di vita e artistici mi verrebbe da dire stiamo parlando di l'avventura come nasce un genitore l'altro titolo bellissimo perché effettivamente parla della tua esperienza di diventare mamma che effettivamente uno diventa mamma ma non nasce genitore però lascio sicuramente spiegare anche in questo caso a te meglio come ti è nata l'idea non solo di fare una figlia proprio di svilupparla attraverso sempre delle illustrazioni perché fumetti mi sembra anche in questo caso un po' riduttivo ho scoperto sulla mia pelle che quando nasce un bambino appunto non nasce solamente l'infante ma nasce anche il genitore come madre o come padre e non è un progetto facile infatti ci sono comunque tutta una serie di difficoltà di cui non si parla mai o molto raramente che invece ti schiaffeggiano ti risvegliano brutalmente nel momento in cui ti trovi una nuova persona a casa a me è successo appunto ad aprile quando è nata la mia bambina Bonnie è stato sicuramente bellissimo averla tra di noi ma la prima settimana è stata traumatica in maniera veramente incredibile non avrei mai pensato che sarebbe stato così un po' per la mancanza di sonno un po' per l'ansia lo stress il panico non sapere come gestire questa nuova vita mi sono trovata comunque a davvero dover lottare contro quelli che sono definiti i baby blues e ho scoperto che molto pochi sono i libri i film le serie televisive le canzoni che parlano di questo aspetto di solito ci si sofferma solo sull'aspetto negativo ora una mia amica quando le ho parlato di questo progetto mi ha detto ma certo che nessuno te l'ha detto prima altrimenti nessuno farebbe più figli il che è possibile perché poi certo ci si abizia si trova una quadra e il legame emotivo ed affettivo è talmente forte da risolvere molti problemi però appunto questi problemi non vengono mai discussi e sono un po' tabù per questo ho deciso di realizzare una striscia una serie di vignette che si occupano sia dell'aspetto della gravidanza con i miti superstizioni pregiudizi che ancora la contraddistinguono sia dell'aspetto dei primi giorni mesi e settimane del bambino la prima parte l'ho già completata perché l'ho realizzata quando ero incinta quindi l'ho finita intorno ad aprile e si tratta di vignette piuttosto amoristiche divertenti con tono leggero per strappare un sorriso comunque ai nuovi genitori che già si trovano a dover avere a che fare con molte difficoltà si tratta di strisce di quattro episodi l'una generalmente nella classica struttura quadrata che troviamo spesso sui social media e che ho già cominciato un po' a pubblicare su diverse testate come lo spazio bianco art tribune e alcune riviste anche proprio femminili come gravidanza online o robe da donne la seconda parte invece del progetto sarà un attimo più approfondita e anche più densa da un punto di vista emotivo si tratterà infatti non di strisce a fumetti ma di un vero e proprio libro se vogliamo lo possiamo ancora definire graphic memoir perché comunque si basa su vicende davvero vissute con l'utilizzo classico dell'illustrazione del testo ma anche di alcuni oggetti documenti fotografie come è nello stile che mi contraddistingue per raccontare la storia anche lì vorrei mantenere comunque il tono leggero e umoristico perché è sempre bene trattare di queste tematiche senza facciarsi la testa ma cercando di essere propositivi però appunto anche andando a toccare alcuni aspetti che spesso sono un po' tabù al giorno d'oggi quindi possiamo confermare che tutto verrà riunito anche in questo caso in un volume esatto molto bene io a me ha divertito particolarmente quella dove annunci la tua gravidanza al tuo papà quella mi ha mi ha proprio fatto sorrigere è proprio è proprio stato così che ti vava a dire ma è un miracolo un miracolo un miracolo magari esatto lo richiamavi un attimo da realtà sul fatto anzi tu spiegavi al tuo papà come nascono i bambini e appunto trovate al momento trovate queste pubblicazioni sul sito di Bruna e anche sulla pagina Instagram io ho visto qualcosa giusto? sulla pagina Instagram le sto pubblicando una alla volta e lo spazio bianco le pubblicherà una ogni sabato ne ha già pubblicate due poi vi andare fino alla fine dell'anno perfetto quindi questo è un altro riferimento mi viene una domanda mi sorge adesso quindi tu stai diventando una radice tra l'altro trappiantata da un'altra parte perché al momento vivo a Brighton vicino a Londra in Inghilterra e quindi al momento questa radice familiare si trova lì poi magari si sposterà ancora perfetto direi che proprio c'è tutto c'è l'immigrazione c'è la famiglia c'è la direzione c'è il futuro e per questo noi ovviamente ti ringraziamo qualche qualcosa da consigliarci a livello di lettura visione qualcosa che ti ha colpito ultimamente sì allora io è da aprile che non leggo niente a causa della nascita della mia bambina che mi porta ad andare a letto alle nove di sera però prima di aprile mi avevano molto colpito l'ultimo volume di Riyad Satouf L'arabo del futuro che è una serie di graphic memoir sulla sua infanzia infatti Riyad Satouf è per metà francese e per metà libico e siriano anche per il padre attraverso il padre per cui nei suoi sei volumi racconta quella che era l'infanzia prima in Francia poi in Libia poi in Siria di una persona che si trova un po' pesce fuor d'acqua in tutti i paesi in cui vive e ha finalmente completato questa serie per cui il sesto è l'ultimo volume e davvero deve essere letto è fantastico sia nello stile che nel contenuto perfetto serie tv film qualcosa al netto della tua bambina perché sì ho cominciato in realtà proprio l'altra sera a vedere questa serie televisiva su Amazon Prime che si chiama Il Potere The Power che è basato sullo stesso racconto libro che si chiama The Power in cui si immagina come sarebbe una società in cui le donne hanno un potere appunto la capacità di utilizzare le mani e produrre dell'energia elettrica e quindi anche comunque controllare altre persone attraverso la sopraffazione fisica e ci si domanda come sarebbe la società se fossero le donne e non gli uomini ad avere il volante nelle mani ed è molto interessante molto interessante molto beh grazie anche per questi consigli prima di tutto allora a questo punto la nostra chiacchierata purtroppo è giunta al termine ringraziamo Bruna per il tempo che ci ha dedicato per quanto riguarda noi di Dinner Games appunto vi ricordiamo che il podcast tornerà la prossima settimana che continueremo a essere attivi su tutti i nostri social dove potrete recuperare anche questa chiacchierata e le altre notizie news recensioni che che arriveranno appunto nelle prossime settimane soprattutto anche dal punto di vista delle anteprime cinematografiche grazie ancora Bruna grazie mille a voi per l'opportunità quando vieni in Italia è qui da firmare certo grazie grazie mille arrivederci a tutti ciao grazie grazie a tutti